Con te io assalgo i bastioni, con il mio Dio salgo sulle mura. Secondo Samuele, capitolo 22, versetto 30 Alzati e dichiara vittoria Qual è il muro che sta tra te e le benedizioni di Dio? Risorse limitate? Fallimenti passati? Il tuo lavoro sembra troppo grande per te e tu ti senti troppo piccolo. Alzati e dichiara, con te io assalgo i bastioni, con il mio Dio salgo sulle mura. Invece di accettare quello che la tua vista e i tuoi sentimenti ti dicono, afferra le promesse che Dio ti ha dato nella sua parola. Dall'altra parte del muro c'è una vittoria per te. Fu dopo la tempesta che i discepoli si chiesero, che uomo è mai questo? Che anche i venti e il mare gli ubbidiscono. Matteo 8, 27 Colui che comandò loro di salire sulla barca, sapeva che ci sarebbe stata una tempesta. Eppure li fece salire ugualmente. Perché? Per sviluppare la loro fede. Per insegnare loro a dipendere da Lui, a fidarsi della Sua parola. Quando fai di Gesù il Capitano della tua vita, allora potrai gioire, perché grazie a Lui riuscirai ad uscire da quella tempesta ed arriverai all'altra riva. Dio l'ha promesso. Comincia a dire, Con il mio Dio posso ogni cosa.